Ho trovato qualche amico, conosco Sansone, Rolando, ho salutato tutti, però parliamo della partita, è stato approccio mole da nostra parte, siamo stati penalizzati, abbiamo dato la reazione in secondo tempo, però noi siamo riusciti a mettere sotto il Torino. Cosa ci puoi dire di Corini, allenatore? Noi l'abbiamo conosciuto molto bene come giocatore, è sempre stato un po' un allenatore in campo, perché ha sempre avuto molta bisogno di gioco, molta saggezza, però come allenatore non lo conosciamo, come ce lo racconti? Vi dà forza alla squadra, uno che non piace ai giocatori che mollano mai, si vede anche in campo come siamo messi, cerchiamo di giocare come squadra, a me mi piace tanto. Io non c'ho niente di dimostrare a Torino, io cercavo solo di fare partita come decimista e se è stato così non c'ho niente vendita, vincita contro Torino.